Benvenuti ragazzi, sono Cristian e sono qua su Tekken Tag 2 Ho appena comprato questo gioco assieme a Tekken 6 perché ero indeciso tra i due quale comprare Quindi ho comprato tutti e due Non so perché ogni tanto mi parte qualche merda nel cervello e vado a prendere giochi uguali magari Niente, Tekken Tag 2 che è molto bello Io gioco sin dal Tekken 1 alla Playstation, dalla Play 1 in poi Ho sempre giocato tutti i Tekken tranne a Tekken 6 e Tekken Tag 2 perché appunto li ho appena comprati E niente, so che va di moda il Call of Duty di turn Però io sinceramente a Ghost non riesco a mandarlo giù Proprio è una roba assurda, non riesco a fare risultati decenti da caricare sul canale E quindi dovete guardarvi questo qua di Tekken È molto difficile parlare mentre si gioca, infatti questo commenter è stato registrato dopo aver fatto la partita Perché giocare mentre parli può sembrare una cavolata su Call of Duty se ci fai l'abitudine Ma su Tekken è una roba assurda perché puoi sconcentrarti un secondino che sei finito Come potete vedere nel video io ho vinto due round, i primi due, ne ho persi subito altri due E ho vinto a culo il terzo, la scuola del quinto che sarebbe quello decisivo L'ho vinto a culo e quindi non era poi così grande soddisfazione perdere e mettere un video su Youtube Quindi ho preferito vincerlo senza parlare e parlo dopo Io non parlerò in tutto il video perché adesso chiudo qui la conversazione Facciamo su due minuti, il video durerà 5 Spero che vi piaccia il video di Tekken Lasciatemi nei commenti se vi è piaciuto e quali personaggi usare nel prossimo video Ovviamente adesso caricherò anche le prime Cioè ad esempio, buona la prima, perdo o vinco, chi se ne prega carico sul canale Lasciatemi nei commenti i personaggi che volete che io usi in questo gioco Vi ricordo che è Tekken Tag 2 quindi dovete selezionarne due di personaggi Se volete dopo vi mando anche una lista nella descrizione Mettete un pollice in su se volete la lista nella descrizione Così più o meno scegliete quelli che volete E niente, non ho nient'altro da dire I prossimi video non saranno commentati come questo O forse magari alcuni si però comunque sia faccio il commentare dopo aver giocato Perché se no come vi ho detto prima risulterebbe un casino Io vi saluto, un mi piace se volete a descrizione e se vi è piaciuto il video Io vi saluto ancora una volta Ci si becca in un prossimo video Bella a tutti da Krix Ciao 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 Ciao